Parola di Donne nasce nell'ambito di progetto Donne Futuro dell'Avvocato Cristiana Rossello. Ha come finalità quella di confrontarsi con i giovani sul tema delle pari opportunità. Si tratta veramente di un confronto, di uno scambio di informazioni, di opinioni, di domande, di risposte tra studenti delle scuole italiane e modelli femminili di successo. Parola di Donne si caratterizza per un format piuttosto dinamico e direi interattivo. Si caratterizza per la realizzazione di video inchieste all'interno delle scuole italiane attraverso le quali si rilevano le idee, i comportamenti, gli atteggiamenti dei ragazzi sul tema delle pari opportunità. Poi si svolgono degli incontri, degli incontri live, di confronto appunto tra i modelli femminili e gli studenti dall'altra parte. Chiaramente gli studenti hanno un atteggiamento non passivo perché rivolgono domande, conducono letteralmente questi eventi anche commentando insieme alle relatrici le video inchieste che vengono trasmesse durante questi dibattiti. Ma Parola di Donne è anche una web community. Infatti se voi vi collegate e andate su www.paroladidonne.it voi vi ritrovate all'interno di un contesto in cui vengono riportati tutti gli argomenti che vengono trattati nell'ambito del progetto stesso. C'è scuola tour, quindi i video racconti degli incontri che vengono svolti nelle principali città italiane. Ci sono le video storie delle relatrici, di questi modelli femminili affermati che si confrontano con i ragazzi. C'è una sorta di TG web, vengono pubblicate tutte le video inchieste che sono realizzate nelle scuole e di cui sono protagonisti i giovani. E poi c'è un contest di pari passo, una sorta di gara che coinvolge sempre tutti gli studenti italiani ad elaborare il più efficace messaggio pubblicitario sul tema delle pari opportunità. Quindi chiunque può partecipare inviando una sorta di manifesto che trasmette, si caratterizza per un messaggio sulle pari opportunità di genere. Vengono messi online, vengono pubblicati, si forma una classifica in tempo reale e i primi tre classificati verranno premiati insieme ad un premio speciale assegnato dalla giuria tecnica. Quindi invito chiunque a partecipare con la sua parola di donna nell'ambito di questo progetto partecipando ai nostri incontri o partecipando alla web community.